e poi lo dice anche il proverbio una mela al giorno leva il medico di torno oh madonna chi l'è adesso? un signore latina questa chi la leva meno fino da torno pronto? CINAAAA eccola la puccianas del palazzo steghe guarda oggi sono in lutto è morto l'ultimo neurone del tuo cervello scema è morto il marito di mia sorella graziella oh paradonna si guarda ma è il terzo marito che ci crepa ne? tutti e tre con la stessa patologia ma con che roba? con i funghi avvelenati guarda il primo marcello ha portato a casa i funghi non si accorta che erano avvelenati pam tre giorni è morto oh poverino il secondo fulvio anche lui ha portato a casa i funghi non si accorta che erano avvelenati pam tre giorni è morto oh che disgrazia che disgrazia il terzo il franco è morto con una sassata in testa una sassata in testa? ma come mai? perchè non mangiava i funghi uuuuuh uuuuh 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 carretina deficientica stella hai visto anche chi ascoltarla quella cretina lì? lei tutta la sua parentena delle deficienti pie mamma mia guarda no guarda la mangi no perchè sennò la mezza su stumec è meglio che beva un bel bicchierino di grappa grazie